Una grande coppia di classe internazionale danze latinoamericane, sono uno spettacolo, quindi sono finalisti ai campionati italiani di Rimini che hanno fatto questa settimana, facciamogli un grande applauso, Andrea e Vanessa! Abbiamo tanto il piacere! Grazie! 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 Fatelo sentire questo applauso! Grandi! Che insegnanti che abbiamo a Paro Club eh! Che insegnanti! Grandi! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.